Questa appunto è la maglia che poi conterrà l'anidride carbonica formata dai batteri, vedete? Proprio un film sottile ed elastico, si vede proprio che è una maglia ben formata. A dire la verità non è ottimale come quando la forma una tuffanti, ma comunque è un buon risultato, ok? Una, vedete come viene su? Ecco, pirlare vuol dire questo, cioè vuol dire dare forza all'impasto, vedete? Così, ancora di più se lo schiacciate proprio, ok, 92, sta salendo, 94, vedete che collassa, quindi va subito girato, eh?